Dunque, sono quattro lezioni. Ora ti spiego. La prima lezione consiste nel legarsi con uno spago una mela al fianco destro e imparare a dare dei colpetti secchi così. Tac, 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 tac. Brava. Seconda lezione, ti leghi un'altra mela con uno spago al fianco sinistro e devi imparare a fare tac, 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 tac. Più secchi, tac, tac. Mela destra, mela sinistra, mela destra, mela sinistra. Brava, così. La terza lezione, invece, ti devi mettere uno spaghino e lo devi leggere così tra i denti con una banana che ti arriva proprio da... Alla patafiola. A pata che? La patafiola. Chiama come te fare. Ecco, devi fare così. Mela destra, mela sinistra e afferia la banana. Mela destra, mela sinistra e afferia la banana. Destra, sinistra, afferia la banana. Destra, sinistra, afferia la banana. Mela, mela, banana, mela, mela, banana, mela, 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 ho, è più svelta, mica così. Mela, mela, banana. Mela, mela, banana. Mela, mela, banana. Eh, dai, dai, fammi dire. Mela, mela, banana. Mela, mela, banana. Eh, bravissima! La quarta lezione, invece, consiste nel legarsi uno spaghino qua dietro con un chicco di caffè che t'arriva proprio... A quel buchino là. Eh, a quel buco là. Allora, vai. Mela destra, mela sinistra, banana, caffè. Destra, sinistra, banana e caffè. Mela, mela, 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 banana e caffè. Senti, io non ho capito nulla. Non è che potessi ricominciare da capo?